Palazzo Lascaris ha ospitato la cerimonia del premio Gianni Oberto assegnato per il 2013 a Elisa Tonda, Andrea Musazzo e Stefano Ghirardo per le loro tesi di laurea che hanno promosso e diffuso la cultura piemontese. Nell'occasione è stata presentata la pubblicazione della tesi vincitrice dell'edizione 2012 di Chiara Tavella, contributo alla biografia letteraria di Santorre di Santa Rosa, una commedia inedita. Cosa ha comportato per lei la vincita del premio Oberto lo scorso anno? Allora, questa vincita è stata molto importante perché mi ha permesso di rendere pubblica la mia tesi ottenendo appunto la pubblicazione di un volume e adesso il mio intento è quello di continuare a studiare le opere di Santorre di Santa Rosa, le altre opere inedite e spero di poter aver modo di studiarne e pubblicarne altre.